Abbiamo anche Tommaso, guarda. Buonasera. Buonasera. Buon saluto della diretta. Scusate il ritardo, è arrivato ora la sera. No, no, assolutamente. È stata una giornata un po' più in palle, grazie ai nostri amici fascisti. Ah, vedi, non manca la noia, come si dice. No. Assolutamente, quindi siamo proprio in diretta e quindi innanzitutto ti ringraziamo come redazione di essere intervenuto perché sappiamo benissimo che hai molteplici impegni e poi specialmente il 10 febbraio che ci impegna dal punto di vista dell'analisi della ricerca ma anche della sollecitazione della società civile. Abbiamo ovviamente parlato nel quarto d'ora precedente alla trasmissione diretta e ovviamente abbiamo detto che la nostra intenzione non è episodica ma quella di fare un seminario dal vivo a Livorno tra il 25 aprile e il primo maggio se le condizioni che sappiamo lo permettono e che intendiamo cominciare a fare un lavoro che non sia di propaganda ma di stimolo culturale su questo tema. e in questi termini comincio una breve introduzione ringraziando chi ha cominciato a connettersi con noi per presentare il dibattito di oggi. Il dibattito di oggi ha delle caratteristiche particolari, è organizzato da una relazione il codice rosso che non è né un sito di informazione né un sito di propaganda ma un sito di analisi sui temi della comunicazione politica, della politica internazionale, abbiamo lavorato molto anche sui temi sanitari sulla vicenda Covid e che ha uno scopo molto preciso, quello di stimolare a sinistra reti di dibattito e di analisi che da una parte sono state spassate via negli ultimi anni, dall'altra invece di cogliere quegli elementi di innovazione che ci sono, quella capacità di comunicazione che sta emergendo in un mondo politico che è profondamente mutato. Stasera abbiamo con noi tre graditi ospiti e siamo molto contenti di averli riuniti sotto lo stesso diritto tecnologico, in questo caso, in previsione appunto di questo evento dal vivo che intendiamo fare e sono assolutamente in ordine alfabetico Tommaso Fattori, Alessandra Kershavan e Tommaso Montanari. Noi lasciamo sempre l'onore alle questioni che invitiamo di presentarsi da solo e se lo ritengono opportuno, oppure di immettersi direttamente nell'ordine di discorso. Io dirò alcune cose brevi che però ritengo importanti per inquadrare il taglio che abbiamo dato a questa iniziativa, che abbiamo chiamato Orwell in Italia. Ora, non sappiamo che negli anni immediatamente precedenti al dopoguerra l'incubo delle giovani generazioni che si affacciavano sul mondo era quella che convenzionalmente chiamiamo la sbastica sul sole, dall'ortoico testa di Philip Dick, ovvero che a un certo punto la storia rovesciasse completamente il senso della narrazione, per cui i carnefici diventavano le vittime, i carnefici vinti diventavano gli eroi e i vincitori e un mondo assolutamente distopico si facesse piano piano realtà. Quando questo libro è diventato una serie tv, sei anni fa, l'uomo dell'alto castello, abbiamo visto che pian piano questa distopia diventava realtà proprio quel capolavoro estetico che è questa serie tv prodotta da Amazon. Allora, a questo punto abbiamo cercato di proiettare questa sensazione su quello che è accaduto in Italia, ovvero sia che la nostra dimensione distopica è la vicenda delle foide, cioè la vicenda di un filo narrativo della storia che si è completamente rovesciato rispetto alla realtà dei fatti e alla verità degli origini, ovvero sia i carnefici sono diventati vittime, gli usurpatori sono diventati re della narrazione storica, i dittatori sono diventati democratici. La domanda che noi ci siamo fatti è come è potuto accadere tutto questo, cioè in un paese dove la cultura storica e democratica è stata a lungo coltivata in modo anche efficace per anni e l'immissione di questa cultura nel tessuto pedagogico del paese ha funzionato a lungo tempo. A nostro avviso ci sono due fattori, al di là di quelli politici di cui potremmo tranquillamente ragionare e che comunque lascio Andrea definire, ci sono due fattori che hanno determinato quest'esito. Il primo è quest'esito di rovesciamento della narrazione storica e della realtà dei fatti, in cui l'oppresso è diventato oppressore e la voce della dittatura è diventata la voce della verità. Il primo fattore lo possiamo tranquillamente chiamare lo sterminio degli storici. Noi da 20-25 anni, poi Tommaso è il rettore, conosce benissimo il tema, abbiamo visto nelle cartelle di storia un vero e proprio sterminio economico, taglio di fondi, di dottorati di ricerca, di piani di ricerca, che ha semplicemente tolto la parola all'innovazione storiografica e anche all'innovazione di linguaggio, che rende vivo e rende possibile capire la storia attraverso il presente. Questo è un grandissimo deficit culturale del paese, che ha permesso a un'altra generazione, che possiamo tranquillamente definire di degrado culturale e di impoverimento linguistico, di impadronirsi della narrazione storica senza sostanzialmente problemi. L'altra questione, la saldatura con lo sterminio degli storici, è la convergenza dei media su un solo livello di verità, che è quello appunto del rovesciamento della narrazione storica sulle foibe. È evidente che quando gli storici ergo sterminati e quando i media hanno sostanzialmente una sola voce monotona su un loro tema e su un solo tema, la verità si rovescia. Si rovescia e appunto gli oppressori diventano gli oppressi, i dittatori diventano la democrazia. Questo è un problema molto grosso e soprattutto che ne va dalla tenuta non solo democratica, ma anche sociale e culturale del paese, che va poi sommato a un altro problema, ovvero sia che i social hanno spontaneamente seguito questo genere di tendenza, cioè quella tendenza al rovesciamento della verità della narrazione e della realtà di fatto. Quindi ci troviamo di fronte a un mondo in cui parlavamo prima con Alessandria, prima che arrivassero gli altri ospiti, in cui dallo squilibrio nel dibattito, come c'era una quindicina anni fa su questi temi, siamo arrivati al predominio, alla prepotenza di una voce sul resto del paese. Quindi ciò cui chiamiamo a discutere con la più serena libertà di espressione è come sia stato possibile tutto questo e quali sono soprattutto le verità da conservare e da mantenere sia sul piano narrativo che sul piano storiografico per invertire questa tendenza, questa nostra sbastica sul sole, in questo caso a sinistra tranquilla, davanti al Mediterraneo. Vi ringraziamo tutti dell'attenzione, in special modo chi è intervenuto in streaming e passo la parola ad Andrea. Sì, noi per presentare questo incontro abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione non tanto su quello che all'epoca è veramente avvenuto, perché storici ricercatori hanno lavorato, lavorano da tempo e molto più approfonditamente di quello che potremmo fare noi, Alessandra per prima, ma tanti altri. Volevamo però mettere l'accento sulla genesi politica di questa giornata e di quella cernoviculturale di cui parlava anche Silvano prima. La data, l'istituzione della giornata di ricordo è nata da un patteggiamento fra ex fascisti ed ex comunisti alla fine della prima repubblica in sintesi, cioè quando è stata la narrazione istituzionale dominante è cambiata da una narrazione in cui i fascisti erano almeno formalmente tenuti fuori dal dibattito politico a una nuova imparcatura culturale dove le vecchie pregiudiziali, quella dell'aico costituzionale ma anche quella che vedeva i comunisti confinati all'opposizione, dovesse lasciare il campo a un bipolarismo in cui tutte le ali politiche dovessero essere ammesse. C'è però uno squilibrio in questa operazione che di fatto la destra estrema non ha avuto la necessità di avviurare a quelli che erano i convincimenti che l'avevano guidata nel corso del novecento, ma ha potuto rivendicare sostanzialmente una propria continuità storica e culturale, magari dicendo che i tempi erano cambiati, mentre a sinistra c'è stato effettivamente uno smantellamento di quella che era la tradizione culturale e politica legata alla resistenza e all'antifascismo. Basta vedere la cronologia di questo passaggio per capire chi sono stati i protagonisti, Violante con i suoi ragazzi di Sarò è probabilmente il personaggio che è più impresso nelle menti quando si parla di tutto questo percorso, ma ve ne sono altri. Il discorso di Napolitano alcuni anni dopo addirittura creò un incidente diplomatico con la Croazia quando parlò di pulizia etnica nel suo zero revisionista e la Croazia non è certo l'erede politica della Jugoslavia di Tito, furono anche personaggi di destra della Croazia di allora a contestare questo tipo di interpretazioni. Poi Fassino, Beltroni che come Ministro della Cultura ha finanziato diverse operazioni di propaganda sulla questione delle foibe e così via. Poi l'altra cosa importante è che naturalmente questa giornata si viene a determinare dopo la dissoluzione della ex Jugoslavia quando qualcuno in Italia ha cominciato a pensare che forse gli equilibri nati con il trattato di pace del 1947 si potrebbero anche rimettere in discussione. e cosa più evidente a dimostrazione di questo è la scelta della giornata che è l'anniversario del trattato di pace che conclude la seconda guerra mondiale, 10 febbraio del 1947. si poteva come dice qualcuno gestire diversamente questa giornata ma se queste sono le premesse probabilmente no, probabilmente no. Nasce anche dalla riproposizione del vecchio luogo comune degli italiani brava gente. Ci si dimentica di dire che dei criminali di guerra italiani nessuno è stato estradato. Basta vedere la parabola di Graziani che dopo la guerra non solo non viene estradato nei paesi in cui aveva compiuto stragi, massacri, ma si iscrive al Movimento Sociale Italiano che ricordiamolo partecipa per la prima volta alle elezioni in Italia alle amministrative del novembre 1945 quindi alla faccia del sangue dei vinti. Ne diventa presidente e poi morirà nel suo letto molti anni dopo. E come lui nessuno dei criminali fascisti di cui i paesi che erano stati nemici dell'Italia chiedevano l'estradizione è stato mai consegnato per essere processato in questi paesi. Quindi si ripropone ancora una volta il luogo comune degli italiani che non avevano commesso crimini di guerra, che avevano aderito un po' di malavoglia all'alleanza con i nazisti ma che in fondo poi non avevano commesso gli stessi crimini e così via. Quindi tutta una narrazione che fin dall'inizio è costellata di revisionismo e di falsificazione. Quel che è peggio è che non si parla soltanto di un problema di memoria, di avvenimenti che sono occorsi 70-80 anni fa. Questa operazione di riabilitazione dell'estrema destra in Italia era per forza destinata a toccare anche il ruolo del neofascismo e del dopoguerra. Ruolo in cui nonostante ci fosse come si diceva all'inizio l'imparcatura dell'arco costituzionale, i neofascisti sono stati protagonisti dall'immediato dopo guerra in poi di quelle trame nere che hanno insanguinato il paese. E anche su questo c'è del revisionismo. Basta pensare a un comitato in cui ci sono molti parlamentari, molti esponenti anche abbastanza conosciuti e non solo di destra, che intende riabilitare l'immagine dei fascisti che sono stati condannati per la bomba alla stazione di Bologna. Esiste un comitato, nessuno di noi era a Bologna, gestito ovviamente, animato da personaggi dell'estrema destra intorno a Fratelli d'Italia, anche di questo tipo. Ma sull'innocentismo nei confronti di Mambro, Fioravanti ed altri, si sono spesso schierati anche personaggi che non avevano legami diretti con la destra neofascista. Infine, la cosa che veramente lascia esterrefatti è come personaggi di sinistra o anche della comunità ebraica, non ritengono evidentemente più attuale una pregiudizia antifascista. È uscito proprio in questi giorni un libro di un intellettuale di origine ebraica per la casa editrice di Casa Pound. Quindi veramente siamo di fronte a una situazione paradossale in cui è normale che poi anche in questi giorni in cui preparavamo questo seminario ci siano state aggressioni e provocazioni di vario genere. Penso al discorso della toponomastica, con le proposte di intitolare al fratello di Mussolini un parco, mi pare a Latina, le varie vie intitolate al mirante che ci sono in vari comuni del nostro paese, il manifesto bellissimo che ha fatto la regione Piemonte proprio per la giornata del 10 febbraio e tutta una serie, una miriade di piccole aggressioni, atti di bullismo fascisti o parafascisti. Nella nostra provincia un ragazzino di 11 anni è stato aggredito da due ragazze 15 anni che l'hanno apostrofato e picchiato dicendo di sporco ebreo, cosa che ormai è un po' l'ordinaria amministrazione e riteniamo che l'epicentro culturale di questa quotidianità sia proprio la riabilitazione dell'estrema destra neofascista che ha avuto luogo con l'istituzione della cosiddetta giornata del ricordo. Ecco, questo era un po' l'inquadramento che abbiamo voluto fare, poi lascio la parola ai nostri ospiti che ne sanno senz'altro più di me. Grazie a tutti. Innanzitutto Andrea ovviamente è modesto come al solito, va benissimo. Ringrazio per i cuoricini che fanno sempre piacere e passo la parola a Tommaso Fattori per il suo intervento, che ringrazio veramente anche lui per aver fatto le corse per arrivare puntuale. Spero io che ringrazio voi per l'invito, molto gradito. Prima di tutto non eludo la domanda di fondo, cioè ci troviamo in una situazione bicchiana o orwelliana, cioè a senso nel giorno del ricordo scomodare George Orwell, Philip Peek e pietre miliari della letteratura. A mio parere sì. Ovviamente non esiste in Italia un ministero della verità che riscrive la storia secondo gli indirizzi, secondo le esigenze del potere politico, però non ne siamo neppure troppo distanti. Cioè esiste sicuramente un tentativo legato proprio alle motivazioni che Andrea vi assumeva adesso di sancire una verità di Stato che per molti versi si affranca e si rende indipendente dalla verità storica o per meglio dire dalla ricerca storica. E certamente questa verità di Stato è il frutto di una volontà politica, è il frutto di un accordo politico che appunto è, facendone una breve etiologia, certamente è quello che aperto la strada si pensi al primo governo Berlusconi, alla inclusione dei cosiddetti partiti post fascisti all'interno della compagine governativa, più in generale alle larghe intese, ma io credo arrivando all'oggi si possa dire anche ai governi di cosiddetta unità nazionale come l'attuale governo Draghi dove, come è noto, assieme al Partito Democratico e agli altri vi sono anche la Lega e Forza Italia. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, faceva prima riferimento inizialmente Tommaso alle polemiche sorte dopo il suo ottimo convegno scientifico di ieri e molti sono per appunto esponenti persino al governo proprio della Lega. Ecco, allora il percorso per raggiungere una cosiddetta memoria condivisa non ha nulla a che vedere con la storia, non ha nulla a che vedere con il metodo storiografico perché appunto si tratta piuttosto di riscrivere non la storia per comprendere il passato nella sua complessità, ma per inventare, vorrei dire, un racconto nel quale possano riconoscersi tutti, se si possa riconoscere i figli di coloro che hanno combattuto per Hitler e per Mussolini e i figli degli ebrei finiti nei campi di concentramento o i figli dei partigiani, insomma chi stava dalla parte giusta e chi stava dalla parte sbagliata. Per questo, per raggiungere questo obiettivo è ovvio che si deve, come dire, fare di tutto per mettere in dubbio i confini stessi fra queste due parti, fra la parte giusta e la parte sbagliata, sostenere che in fondo una scelta e l'altra si equivalgono o si equivalevano. Giustamente ricordavate nelle introduzioni come appunto il centro-sinistra abbia avuto una considerevole responsabilità, ecco, quindi la domanda vostra che facevate adesso è come si è giunti qui. Beh, certamente è stato ricordato Luciano Violante, il primo a legittimare le racioni dei ragazzi di Salò, o come è stato detto, bisognerebbe piuttosto dire, dei ragazzi di Hitler. La destra italiana per molti versi si è limitata a percorrere poi una strada che gli era stata spianata dal centro-sinistra, tra l'altro appunto anche grazie a figure istituzionali di rilievo, veniva giustamente menzionato Giorgio Napolitano. Ecco, quindi in altri termini si è giunti qui anche perché il centro-sinistra, ai noi, ha legittimato e ha alimentato quel dispositivo ritorico tipico della destra postfascista che dice siccome torti, alcuni torti o comunque torti sono stati commessi anche da coloro che stavano dalla parte del giusto, allora se ne deve concludere che le parti si equivalgono, i morti sono tutti uguali, come dire, ambe due le parti in conflitto erano parimenti colpevoli o parimenti diciamo meritevoli, ciascuno ha le proprie ragioni eccetera. Però ecco, qui si arriva al punto che è incredibile, l'Italia fascista era dalla parte del torto, perché sappiamo che per rimanere ai temi di oggi, insomma, ha occupato brutalmente la Jugoslavia, dove ha compiuto atrocità di ogni genere, campi di concentramento con appunto moltissimi morti, era ovviamente alleata dei nazisti e di colore che hanno progettato la soluzione finale. appunto, quindi in questo scontro diciamo fra le due parti, si può dire fra la civiltà e la barbarie, ma dove la barbarie è appunto il nazifascismo, è quella, è quell'ideologia, è quel progetto politico, quindi non è ovviamente una questione di altro genere, tanto meno etnica. In questo scontro chi stava appunto dalla parte delle Nazioni Unite, compresi i partigiani di Tito, ovviamente stava dalla parte giusta, gli altri stavano dalla parte sbagliata. Ecco, e nemmeno le più terribili, come dire, atti che sono stati compiuti da parte alleata, penso alle bombe su Hiroshima e Nagasaki, che portarono a morte 200 mila persone, possono, come dire, ribaltare questo dato di fatto e questo elemento di fondo storico. Mentre tutta questa costruzione, mira esattamente a questo, cioè mira appunto, diceva Silvano inizialmente, diciamo a capovolgere, a mettere i piedi al posto della testa, la testa al posto dei piedi, cioè a capovolgere completamente la realtà. Dicevo appunto delle responsabilità del centro-sinistra per essere giunti qui, ovviamente l'impulso della destra, come dire, lo do per scontato, magari dico qualcosa anche su questo, ma diciamo certamente non sono minori le responsabilità del giornalismo e dei media mainstream. Anche qui, insomma, è stato fatto un cenno. Io sono ogni volta, come dire, colpito dall'ignoranza disarmante di questa propaganda e dei suoi principali corifei, anche insomma dei pelli che dovrebbero fare, no, finta di essere grandi corsivisti, superparti. Io, tanto per stare sull'estrema attualità, insomma, ho letto, mentre ero in treno poco fa, l'articolo di Aldo Grasso, uno sconclusionato articolo di oggi sul Corriere della Sera, contro il convegno organizzato da Tommaso, da Tommaso Montanari, che anzi poi sicuramente cita qualcosa, il quale a Grasso cita, diciamo, come punto di riferimento nel suo articolo inizialmente Raoul Pupo, che tra l'altro è, come dire, un ottimo e un serio storico, per inciso, di cultura, diciamo, politica democristiana. Poi però parla delle foibe, cito testualmente da Aldo Grasso, come parte di quell'ideologia di purificazione etnica che imbianca tutti i sepolchi del mondo. Poi chiude questo articolo con una lunga citazione di Tony Concina, cioè del presidente dei armati italiani del mondo, cito anche qui il virgolettato di Concina nell'articolo di Grasso, lui dice, vorremmo che la nazione ricordasse con serietà e orgoglio i suoi 350.000 figli estirpati dalle loro terre e dimenticati per decenni. Ora, appunto, io vorrei ricordare a Grasso che ogni tanto leggere appunto i libri di storia potrebbe aiutare, perché è proprio lo stesso Raul Pupo a contraddire le tesi di Grasso e di Concina, perché anche qui, cito testualmente da un'intervista a Pupo, lui dice che gli italiani cacciati dall'Istria, dal fiume e dalla Dalmazia non potevano essere 350.000 italiani, perché un censimento del 1936-1939 calcola nelle terre dell'esodo 270.000 italiani. Perché storpiare i numeri, virgolettato sempre di Pupo? Cioè, sostanzialmente, se il censimento di poco prima diceva che ci venivano 270.000 persone, non è che l'esodo può essere fatto da 350.000 persone. E poi, proprio mentre Grasso, in questo articolo di attacco a Tommaso, cita la purificazione etnica, è di nuovo lo stesso Pupo a dire che, cito lui perché è citato da Grasso, insomma, ci sono tantissimi storici autorevoli, direi tutti, che sostengono ovviamente la stessa tesi, che è, come dire, condivisa, che è completamente folle parlare di pulizia etnica. Dice di nuovo Pupo, cito, la nazionalità italiana era un'appartenenza politica e culturale, non un fatto, appunto, di sangue. E poi aggiunge, pur nella loro terribilità, le uccisioni non sono, diciamo, assimilabili a, ovviamente, a un genio d'uscitio. Insomma, voglio dire, è lo stesso Pupo citato da Grasso che contraddice Grasso, il quale, evidentemente, scrive articoli su vicende storiche senza neppure leggere una liga di un libro di storia o un'intervista fatta agli storici che lui stesso cita. Ecco, tra l'altro, ultima nota a margine, scrive Grasso, sempre l'articolo, che sostanzialmente nessuno dice si sogna di equiparare la Shoah e le Foglie. Beh, peccato che oggi stesso questa equiparazione sia stata fatta persino in una circolare del Ministero della pubblica istruzione. Ecco, quindi, diciamo così, in questo contesto mistificatorio che è voluto dalla politica con una forte complicità dello stesso centrosinistra e ha alimentato la grande stampa, appunto, poi si inserisce il giorno del ricordo. Dicevate voi, era inutile. Credo che anche chi ci sta ascoltando il streaming sia benedotto, insomma, delle questioni. Sappiamo bene che questi eventi vengono, prima di tutto, decontestualizzati perché si astrae dalla Seconda Guerra Mondiale dove scrisse giustamente collotti con cui, credo, la Kerseman al suo tempo si laureò, che appunto è il fascismo che ha trascinato, diceva, Corlotti, da protagonista e non da vittima al nostro paese. Si rimuovono le violenze e l'italianizzazione forzata che seguirono la Prima Guerra Mondiale del 18 e il 19, di cui, se vogliamo, le violenze e i campi di concentramento della Seconda Guerra, compreso quello dell'isola di Albe, sono, come dire, una tragica continuazione. Vengono appunto ingigantiti i numeri e la dimensione di questi eventi. Ora, gli stoici, come dire, non hanno ancora un pieno accordo sul numero, però le evidenze parlano di alcune centinaia di persone, fino a massimo di 5.000 persone, ma sostanzialmente è questo lo spazio. Sappiamo tutti che Gasparri parlò di milioni di infoibati, che generalmente gli esponenti della destra parlano di 12.000, di 20.000, ma insomma, in ogni caso, i veri numeri non sono in alcun modo commensurabili a quello di un genocidio e, ripeto, su questo c'è un accordo pieno fra gli storici, ma di cui, come dire, la verità politica sembra voler fare a meno. Allo stesso tempo si rimuove che la gran parte delle persone uccise erano nazifascisti militari collaborazionisti, che le vittime erano di diversa nazionalità. Tra l'altro aggiungo che le vittime italiane furono comunque uccise in gran parte in quanto fascisti e collaborazionisti, a cessione dei casi, diciamo, di vendette personali, ma certamente non si trattò di pulizia etnica, appunto. Non esiste assolutamente alcun fondamento per una simile interpretazione. Le vittime, alcune delle quali civili, certamente, alcune quali innocenti, certamente, avevano anche un diverso orientamento politico. Cioè, il quadro è di una complessità enorme dal punto di vista del contesto storico, dei fatti su cui gli storici hanno lavorato e continuano a lavorare, che, devo dire, scompare improvvisamente nel giorno dei ricordi. Perché non serve il giorno ricordo a ricordare le vittime, appunto, delle complesse vicende del confine orientale. Serve, orguelianamente, in questo appunto concordo con voi, diciamo, a trasformare un mito in una verità ufficiale, il mito del genocidio slavo-comunista contro gli italiani, che, sappiamo bene, è una mistificazione che fu elaborata all'epoca, nel 43, dall'ufficio propaganda della Repubblica Sociale Italiana, che poi è stata coltivata, diciamo, da varie organizzazioni dell'estrema destra e del nazionalismo Giuliano Dalmata e questo mito serve a dare, come dire, legittimità al nazionalismo, alla, come dire, all'assoluzione del regime fascista, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, sempre orguelianamente, e qui di nuovo sulle responsabilità e del perché si è arrivati fino a questo, si è persino arrivati a votare nei consigli regionali del Veneto e del Friuli una mozione sostanzialmente fotocopia che pretende di, appunto, di affermare questa assoluta verità di Stato basata su basi storiografiche inesistenti e comunque sulla retorica che conosciamo, il genocidio, la pulizia etnica, sui numeri falsati, i 350.000 dell'Esdo, i 12.000 uccise e gettate nelle foibe, eccetera. Quindi, in un certo senso, se un'assemblea legislativa, come dire, viene richiesta di votare un atto, tra l'altro, pieno di, come dire, le affermazioni storicamente false e infondate per renderla, appunto, una verità inoppugnabile, come la proposta di legge aveva fatto Fratelli d'Italia, che per fortuna credo si sia eclissata sul cosiddetto negazionismo delle foibe, ecco, certamente, ecco, dicevo, sì, siamo a passo al Ministero della Verità, così come, certamente, anche il tentativo di far tacere Tommaso di cui furono chieste persino le dimissioni dal Rettore, insomma, l'anno passato, mostrano, ecco, questo, come dire, insoppremibile istinto sensorio tipicamente fascista, neofascista, e questa allergia anche verso la libertà di ricerca, oltre che, diciamo, anche un desiderio irrefrenabile di addomesticare l'università stessa, ma, appunto, credo che il convegno di ieri sia la miglior risposta, anche costituzionale, a questo. Però, ecco, non è che qui arrivo anche alla Toscana, non bisogna salire fino al Veneto e al Friuli, perché anche qui in Toscana, che è una regione governata dal cosiddetto centro-sinistra, non è che sia andata troppo meglio. Per prendere l'ultimo episodio, il 2020, io ero ancora consigliere regionale, l'attuale presidente della regione, Eugenio Gianni, invitò a tenere la prolusione ufficiale nel giorno della memoria, il Consiglio regionale, Roberto Menia, che, come tutti sanno, non è uno studioso, non è certamente un esole, diciamo, un testimone diretto, ma è una figura politica dell'estrema destra, un nazionalista irredentista, uno che viene dal movimento sociale italiano, che, ovviamente, è il partito erede del fascismo, responsabile di aver trascinato l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e di avere, diciamo, all'origine, comunque, dei drammi che hanno portato anche, appunto, all'esodo. E quindi, il Consiglio regionale, se vi riguardate anche la registrazione, non c'è stato, ovviamente, nessun ricordo delle vittime del confine orientale, ma, appunto, la rimozione incredibile della storia. Si è rimosso tutto, gli esodi dei croati e slavi, del diciotto e diciannove, la brutale occupazione, diciamo, nazifascista, i campi di concentramento, l'italianizzazione forzata, tutto completamente rimosso, tutto per sostenere, appunto, la tesi del genocidio slavo-comunista. Dentro un Consiglio regionale, in seduta solenne, di una regione, appunto, governata al centro-sinistra. Io, quando chiesi, protestai, chiesi a Gianni ragione di questa scelta, che però era, intendiamoci in continuità, con gli anni precedenti, dove, insomma, non ci si era spinta a Roberto Menia, ma comunque erano sempre esponenti, come dire, consigliati da Fratelli d'Italia, quindi potete immaginare, e Eugenio Gianni mi rispose dicendo, appunto, ho accolto il suggerimento di un deputato di Fratelli d'Italia, tra l'altro, nonostante questo, poi, pochi mesi dopo, nella campagna elettorale per le regionali, non c'è stata, ovviamente, risparmiata la retorica sul voto utile a Eugenio Gianni per fare argine alla destra. Ecco, il fatto, diciamo così, è che, sempre a proposito dell'eziologia, insomma, almeno di quello che penso, è che, poi, alla fine, l'antifascismo, in molti casi, la stessa, Costituzione, che poi fu il frutto più alto della resistenza di quella stagione, è visto come un, diciamo, retaggio ideologico di un passato remoto, ancora di più, cioè, è visto come un ostacolo, diciamo, alla modernizzazione del paese, anche sotto il profilo istituzionale. E non sto solo parlando della spianare la strada alle larghe intese, ai governi di unità nazionale, come il governo Draghi, sto pensando, anche, per esempio, al, al sempreverde dibattito sul presidenzialismo e sulla svolta presidenzialista a dare il paese. Poi, certo, c'è anche la questione, lo citavo Andrea, come dire, della cultura diffusa, no? Perché è chiaro che le parole di Violante sulle ragioni dei ragazzi Salò si fondano anche su, come dire, l'immaginario di un fascismo bonario che è largamente diffuso nel paese perché io sfido chiunque, se la maggior parte dei nostri concittadini non sa nulla dell'uso dei gas nelle guerre coloniali, non sa, certamente, ancora meno, sa dei 3.000 morti nella strage di Addis Abeba del 37, non sa della strage di Debra Libanos dove morirono 1.400, 500 persone fra cui 300 monaci copto cristiani, non sa della strage di Zerat dove appunto i militari italiani sterminarono migliaio di persone fra cui molte donne e bambini dentro la grotta dandogli fuoco, insomma, che tra l'altro se non ricordo male la scoperta che fece lo storico Dominioni circa un decennio fa, insomma relativamente decente, il Corriere della Sera all'epoca fece un titolo in cui disse le foibe italiane in Africa. Questo sempre per capire come appunto si stravolge, come si inquadra al contrario le cose. Ecco, quindi, certamente, come sempre si suol dire, se la coscienza civile tedesca a partire tra l'altro dal tanto vituperato 68 iniziò a fare conti con il nazismo in Italia persiste questo diciamo rapporto spensierato con il passato che ancora ha fatto di miti, di leggende, di italiani brava gente, di leggi del 38 che erano un tributo all'alleato nazista che era qualcosa di estraneo al nazismo come se quelle leggi non fossero state precedute dai crimini appunto dai crimini e dal razzismo sistematico nelle colonie dalla legge sul madamato quella per impedire l'imbastardimento cosiddetto del sangue italiano dai censimenti appunto razzisti degli ebrei in Italia ecco quindi il punto è che qual è anche il fine il fine o comunque certamente una delle ovvie conseguenze che la la rimozione di questo recente passato e la ricostruzione di una verità storica falsata fa sì che quando oggi oggi cioè nel 2020 2021 22 un sindaco prende come dire i materiali venduti dai ragazzi senegalesi e ne fa una pila al centro di piazza signoria o quando un sindaco sgombra un campo rom o quando un ministro Salvini propone un censimento dei rom un ministro degli interni Salvini propone un censimento dei rom ecco diciamo non vede ne può vedere alcuna relazione con il razzismo coloniale con le leggi razziali con i censimenti appunto nazifascisti cioè come se le azioni appunto del presente fossero sospese nel nudo e questo ultima cosa che dico che diciamo così oltre al nazionalismo è evidente anche l'altro versante di questa versione fascista delle vicende del confine orientale cioè il razzismo che è un'altra delle altre grandi questioni del nostro tempo cioè è evidente che attorno a questa narrazione falsata delle vicende del confine orientale c'è questo mito degli slavi come mostri assetati di sangue che sterminano persone solo perché italiane un mito che tra l'altro ha la sua ovvia radice nella stessa propaganda di Mussolini perché tutti ricordiamo cos'era il discorso di Trieste quello in cui appunto Mussolini parlava degli slavi come di razza barbara e razza inferiore dove bisognava usare la politica del bastone anziché la politica dello zuccherino e dove concludeva dicendo che credo più o meno insomma si possano sacrificare 500.000 barbari slavi a 50.000 italiani ecco allora il punto anche estremamente attuale è la pericolosità sul piano ripeto per esempio del razzismo che oggi è uno dei grandi mali sembra Andrea prima citava anche di un ragazzo nella provincia di Livorno che recentemente è stato come dire insolentito e gli è stato detto sporco ebreo o qualcosa del genere per non parlare ovviamente delle forme di razzismo verso i nuovi migranti però è chiaro che questa è un'operazione irresponsabile anche rispetto ai nostri vicini cioè pensiamo alle relazioni con gli vicini sloveni croati con i quali dovremmo diciamo coltivare una cooperazione fraterna ecco non certamente odio mentre oggi questa retorica alimenta oggettivamente l'odio contro i popoli vicini e ci riporta diciamo indietro a diciamo fasi storiche che sarebbe bene diciamo così non ripeto ecco l'ultimissima cosa davvero chiudo è questa perché voi avete posto un'introduzione a un'altra questione cioè ma oltre a appunto gli elementi le ziologia le origini capire perché siamo arrivati qui le responsabilità ma anche che possiamo fare per diciamo cosa possiamo fare non dico per uscire ma per provare a invertire questo stato di cose io chiaramente non penso ad avere in mente nessuna soluzione però ecco una cosa la penso cioè che il giorno di ricordo oggi diciamo è una legge dello Stato quindi di conseguenza diciamo le istituzioni ai diversi livelli oggi sostengono finanziano una serie di iniziative che di fatto oggi propongono per lo più un punto di vista appunto nazionalista un punto di vista revisionista un punto di vista fascista sulle vicende delle foibre del confine orientale né né alla alla gran parte del mondo politico né ai media mainstream diciamo sembra interessare la verità storica questo è incredibile ma diciamo purtroppo mi spiace ma sembra che interessi soltanto agli storici e agli studiosi ora ecco io penso che qui però ci sia un problema serio cioè se oggi le istituzioni diffondono appunto questo racconto dell'estrema destra anziché i risultati della ricerca scientifica eh tra l'altro lo cito eh chi chi segue eh chi si è occupato della vicenda sa bene che questi risultati per esempio sono stati anche condensati in un ottimo lavoro di una commissione storica italo-slovena che fu proprio istituita allo scopo di produrre diciamo una memoria condivisa fra Italia Slovenia e diciamo Croazia su su queste vicende e la commissione storica italo-slovena insomma fece devo dire un ottimo lavoro che potrebbe essere anche un'ottima base dal punto di vista istituzionale ecco però la domanda è dobbiamo stare fermi e rassegnarci al fatto che sia così oppure possiamo provare a cambiare la situazione io penso sia il caso di Agile e che quindi oltre a tutte le iniziative diciamo di controinformazione sul tema come quella che meritoriamente avete organizzato oggi eh che però insomma è bene impegnare anche le istituzioni in questo senso cioè a me piacerebbe che le iniziative legate al giorno del ricordo eh fossero sempre più iniziative di studio cioè che si riuscisse in un certo modo a contendere ehm questa ricorrenza alla retorica nazionalista alla retorica fascista a proporre un punto di vista storicamente fondato che parta appunto dall'analisi di quello che è stata l'occupazione fascista in Istria ancora prima a ciò che accadde eh dopo la prima guerra mondiale alla natura appunto storicamente plurinazionale della Venezia Giulia e all'interno di questo ovviamente inserire anche la questione delle violenze del quarantatré e del quarantacinque però dentro questo quadro storico quindi io penso che la storia eh lo studio l'approfondimento siano lo strumento che dobbiamo adottare eh proprio nel nome della Costituzione italiana per contrastare anche all'interno eh delle eh iniziative memoriali eh portate avanti dalle istituzioni appunto per contrastare questa eh versione diciamo nazionalista e fascista di quegli eventi e il tentativo eh di eh utilizzarli per eh minimizzare eh la Shoah e per eh come dire denigrare eh la resistenza Tommaso eh ringraziandoti tanto anche per l'aspetto propositivo un secondo prima di eh passare la parola alla nostra seconda gravità ospite ricordo una cosa eh quando si parlava di revisionismo in Toscana a gennaio il sindaco di Livorno ha commemorato ha chiuso le commemorazioni dei cento anni del PC e a febbraio è andato a è andato a eh eh mettere eh la corona di fiori in largo delle forbe siamo in pieno regime di posta verità e purtroppo il centro-sinistra è divorziato dal pianeta Terra e questo è un problema eh ti ringrazio di nuovo e passo molto volentieri la parola ad Alessandra Buonasera a tutti ringrazio anch'io naturalmente voi per avermi invitato e avermi dato la possibilità di parlare anche con dei relatori così così precisi così importanti eh sono naturalmente d'accordo su tutto quello che è stato detto finora e ringrazio per aver messo in evidenza tanti aspetti anche che riguardano proprio il modo di vivere di noi che abitiamo in questa regione di confine in cui come dire abbiamo subito già da molti decenni diciamo in tutto il dopoguerra eh questo clima di eh violenza culturale nei confronti della della storia prima di tutto ma anche delle persone perché nella nostra regione ci sono persone che nell'immediato dopoguerra partigiani antifascisti hanno subito delle vere e proprie repressioni eh prigione processi e costretti moltissimi anche ad emigrare perché non trovavano più eh lavoro il Friuli Venezia Giulia è stata la regione in cui sono nate le associazioni pre-gladiatori e il terzo corpo volontario della libertà l'organizzazione O che poi hanno dato vita eh a Gladio che sono state proprio delle organizzazioni vere e proprie di persecuzione eh dei partigiani Garibaldini e di coloro che eh avevano eh combattuto eh nelle nelle gap e nelle formazioni diciamo che non fossero eh che non fossero eh legate a a a un pensiero eh conservatore eh e moderato e che avrebbero voluto eh un'Italia eh diversa da quella che era stata prima del fascismo eh un'Italia completamente democratica in cui eh la gente il popolo avesse potuto insomma eh influire eh nelle decisioni eh della della Repubblica nata dalla Resistenza quindi eh diciamo chi vive nella mia regione conosce benissimo questi argomenti da 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 molti anni ma ehm per per aggiungere qualcosa a quello che è stato detto finora eh vorrei eh parlare di di un aneddoto che mi riguarda perché eh io eh faccio parte del gruppo di resistenza storica un gruppo di storici eh fra Udine e Trieste che abbiamo messo in piedi alla metà degli anni novanta e da quella volta abbiamo cominciato ad affrontare eh lo studio di queste vicende perché appunto abbiamo avuto anche la primogenitura eh del del nuovo revisionismo nella nostra regione ci eravamo accorti già nei primi anni novanta che sarebbe successo eh questo e quindi avevamo messo in piedi eh questo eh questo gruppo con questo gruppo abbiamo eh pubblicato molti libri molti studi eh che vanno dal eh dal fascismo di frontiera al comportamento del fascismo eh nei confronti delle minoranze alla nazionalizzazione di Sloveni Corati della Venezia Giulia e poi l'aggressione alla Jugoslavia del 1941 tutto quello che questo ha significato eh le varie particolarità della nostra regione come la formazione della Adriatis e Spustin lanciò il fatto che dopo l'otto di settembre eh la nostra regione non faceva parte neppure più del della Repubblica Sociale ma era direttamente governata dai eh dai nazisti e poi eh la resistenza la lotta di liberazione il la lotta di liberazione eh multinazionale perché eh nella nostra regione che bisogna tener conto che i confini eh prima della guerra erano molto più estesi verso verso est rispetto ad oggi quindi comprendevano parecchie centinaia di migliaia di eh cittadini italiani di lingua slovene croata e quindi nella nostra regione la resistenza è sempre stata una una resistenza multi multietnica multinazionale multilingue eh tutto cose che che ci caratterizzano rispetto ad altre parti ed Italia tutto cose però che eh nel resto d'Italia non erano conosciute e che quando eh appunto nella seconda metà degli anni novanta si è scoperto in Italia che esistevano le foibe cosa naturalmente che eh che eh è assurda perché di foibe si era sempre parlato semplicemente non erano ancora entrate mh dopo il periodo degli anni settanta ottanta in cui eh l'approfondimento storico si era dedicato ad altri ad altri argomenti eh negli anni novanta le foibe eh diventano un argomento eh principale diciamo di cui eh in Italia si comincia a parlare è incredibilmente invece di eh di dire vabbè ma se non se n'era mai parlato cosa appunto che non è vera eh però appunto così veniva detto se non se n'è mai parlato eh bisognerà pur che ci informiamo e invece improvvisamente tutti sapevano tutto cioè tutti sapevano tutto ed era la verità che era stata raccontata già nel 40 nell'autunno del 43 eh appunto dai dai fascisti e poi dai nazisti che usarono la questione delle foibe proprio per dividere la resistenza eh al proprio interno fra italiani e isloveni e croati e poi quella che era stata la narrazione eh dell'immediato eh dopo guerra di matrice soprattutto democristiana e che poi era stata portata avanti eh in tutto il periodo della della guerra fredda purtroppo eh c'è l'aspetto anche del 1948 e cioè del del dissidio Tito Stalin la questione del Cominform per cui eh a quel punto eh la questione delle foibe comunque del una critica molto violenta anche nei confronti della Jugoslavia e di quella che era stata la lotta di liberazione in Jugoslavia venne portata avanti anche da alcuni alcuni ambienti del partito comunista quindi eh come come diceva mi pare Tommaso Fattori eh quella del del confine orientale è una storia veramente molto complessa eh di cui però improvvisamente tutti sapevano tutto evidentemente sapevano soltanto quella che era stata eh la propaganda noi come gruppo di resistenza storica abbiamo abbiamo appunto cercato di ehm studiare i singoli i singoli fatti come dicevo abbiamo prodotto molti molti libri eh tutti documentatissimi trovando anche spesso eh documenti negli archivi che non erano mai stati eh analizzati come per esempio quelli riguardanti la foiba di Basovizza c'è tutto una quantità eh notevole di eh documenti proprio negli archivi britannici e americani oltre che addirittura anche negli archivi italiani e addirittura di Trieste eh che eh indicano una condizione completamente diversa rispetto a quella che è stata narrata sulla foiba di Basovizza e noi li abbiamo messi in evidenza in libri per esempio di Claudia Cernigo e ma anche in altri libri eh già dall'inizio degli anni eh duemila però eh diciamo che questa documentazione semplicemente si fa finta che non che non esista e poi abbiamo abbiamo messo in evidenza eh tanti altri aspetti che eh adesso cominciano ad essere affrontati ma che eh alcuni anni fa non venivano tenuti presenti e abbiamo per esempio dimostrato come il la conoscenza degli italiani riguardo a queste vicende era talmente scarsa che addirittura non si sapevano non si sanno interpretare neppure le foto mi riferisco per esempio alla vicenda che è diventata famosa della della foto dei cinque fucilati di Dane eh c'è un paese della Slovenia in cui eh cinque eh abitanti del luogo probabilmente eh che avevano collaborato con i partigiani o partigiani loro stessi vennero fucilati da soldati italiani eh però questa foto veniva interpretata come il proprio contrario eh cioè eh come se fossero stati dei degli italiani che venivano fucilati dai eh dai partigiani jugoslavi e questa della foto di Dane è una vicenda particolarmente significativa perché eh la foto venne venne usata fino a un paio di anni fa veniva usata normalmente in qualsiasi trasmissione eh manifesto de plian articolo di giornale su internet sui giornali cartacei eh dovunque questa foto veniva usata per parlare eh di Freud il fatto che che fosse esattamente il contrario avrebbe eh dovuto eh ad un certo punto creare uno sconcerto incredibile no perché cioè come è possibile che nessuno in Italia se ne fosse accorto ne parlai per la prima volta io in una trasmissione di Bruno Vespa porta a porta nel 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 2012 eh feci rilevare che questa foto era stata usata durante un documentario che era stato proiettato durante la trasmissione eh venne eh trattata da mentitrice eh da Bruno Vespa Bruno Vespa che eh tranquillamente continua ancora a a fare le sue trasmissioni di porta a porta come mentiva eh e usava male i documenti in quel caso penso che lo faccia ancora chissà in quante in quante altre occasioni a quel tempo eh io pensavo ancora che si potesse a dire eh alla magistratura per per così per aver riconosciuto per lo meno il il diritto a non essere diffamati in pubblico eh invece la la denuncia l'esposto che in quell'occasione eh feci venne semplicemente archiviato ecco questo è un primo fatto che mi riguarda e che indica che eh oggi in italia eh si può essere eh facilmente trattati da eh da mentitori da negazionisti da riduzionisti da tutti gli isti che si vuole eh senza poter neppure dimostrare se si aveva torto o se aveva ragione perché semplicemente le cose vengono vengono archiviate questo è anche un motivo per cui in questi anni eh si è potuto assistere a questo rovescismo come dice il professor Dorsi eh e a questa situazione quasi orwelliana come eh state sostenendo voi eh ora cosa su cui io sono perfettamente d'accordo ma volevo ricordarvi un altro episodio che sempre che mi riguarda che è ancora forse più significativo per quanto riguarda quello che sta succedendo oggi ehm l'altro ehm ehm negli ultimi giorni è successa questa vicenda ehm incredibile a allo storico Eric Gobetti che eh doveva fare un una una conferenza in una scuola a Verona ci sono state moltissime proteste dei soliti eh diciamo fascisti o personaggi di destra che non conoscono nulla ma possono eh parlare e ehm la scuola o chi organizzava eh invece che eh mantenere il proprio diritto a ad invitare chi insomma è uno storico eh e può raccontare almeno alcuni aspetti della vicenda hanno pensato bene di cedere a a questi ricati a queste a queste agli improperi anche che sono stati rivolti nei confronti di di Eric Gobetti e di chi aveva organizzato e hanno pensato semplicemente che dovevano affiancargli altre persone che storici non erano perché eh Fausto Biloslava non è uno storico e degli altri non so ma sicuramente Fausto Biloslava in questi anni ha scritto riguardo alle foibe tutto forché fatti storici cioè ha fatto pura propaganda ecco però eh sempre eh in relazione a questa vicenda di Eric Gobetti ehm ieri è comparso eh sul sito di un di un gruppo che si chiama Il Mastino Verona Quarto questo questo commento questo post che vi che vi leggo perché è molto significativo nessuno spazio negazionismo apprendiamo dai nostri ragazzi BS immagino si riferisca a Brescia non so BS Verona che in una scuola pubblica veronese il liceo Copernico vergognatevi verrà eh scritto loro fra parentesi verrà ospitato un negazionista antistorico filo titino eh Eric Gobetti non scendiamo nei particolari ridicolmente deliranti del suo libro e allora le foibe eccetera eccetera perché ci sono altri improperi che non leggo perché non ha senso e poi dicono ci limitiamo a dire che ci fa caponare la pelle che una scuola pubblica ospititale e altre improperiche che salto antistorici e negazionisti e se le istituzioni non si muoveranno per far sì che ciò non accada saremo noi stessi a farlo eh cioè questo è un linguaggio da squadristi no sono dieci anni che a Verona non riuscite a propagandare il vostro delirio antistorico in conferenze pubbliche do you remember Kersevan e quest'anno non farà eccezione ecco allora cosa dovevano ricordare di Kersevan le persone a cui questo post si rivolge dovevano ricordarsi che io dovevo fare una conferenza all'università all'università di Verona nel 2012 invitato da un'associazione di studenti che volevano farmi parlare della più complessa vicenda del confine orientale previsto nel resto dal primo articolo della legge della giornata del ricordo e la mia conferenza fu bloccata dopo una campagna simile a quella che ha preceduto la conferenza di Eric Gobetti e avvenne un vero e proprio assalto squadristico nei confronti dell'università con io con una sessantina di studenti che abbiamo dovuto rimanere asseragliati e chiusi in un'aula con un gruppo di Casa Pound che lanciò bombe lacrimogene e che ci assaltò per più di un'ora mentre fuori c'era la polizia che intervenne con comodo appunto un'ora dopo quindi nel 2012 un assalto squadristico impedì che io facessi questa conferenza però il fatto non è tanto questo che insomma si sa che i fascisti quelli di Casa Pound sono così il problema è che ci fu praticamente un'alleanza fra l'allora rettore dell'università di Verona i fascisti infatti il rettore praticamente negò l'aula che era già stata concessa mentre io facevo quando avevo iniziato la conferenza venne tolta l'elettricità da tutta l'università per non farmi parlare quindi quella volta là c'è stata una situazione veramente incredibile il problema è che a parte qualche solidarietà da parte di amici che io ebbi in quell'occasione non ci fu nessuno che mise in evidenza l'assurdità fascista di una situazione di questo genere e soprattutto l'alleanza appunto fra fascisti e istituzioni ecco quindi quello che vorrei dire è che quello che sta succedendo oggi in Italia non è una cosa di questi ultimi anni è una cosa che ha delle origini precise nel fatto che purtroppo nel mondo antifascista non ci si è resi conto abbastanza in tempo e adesso un po' i buoi diciamo che sono anche abbastanza scappati dalla stalla non ci si è resi conto che in Italia stava succedendo qualcosa di grave già dagli anni 90 e quindi cosa cosa fare oggi io concludo sempre le mie conferenze dicendo che dobbiamo tutti quanti fare una guerriglia culturale cioè come è stato ricordato televisioni giornalisti sia cartacei che su internet le istituzioni ormai hanno tutti un'unica narrazione e quindi diciamo loro hanno a disposizione i cannoni massmediatici istituzionali noi possiamo soltanto sperare in una guerriglia cioè cosa significa significa che ognuno di noi nell'ambito in cui opera si proponga di portare una testimonianza di verità una testimonianza di verità che non è difficile trovarla perché appunto libri sono stati pubblicati su questi argomenti non soltanto da noi di resistenza storica sono stati pubblicati in questi ultimi anni da tanti da tante case editrici da tanti autori ma ce n'erano di libri anche è stato ricordato il professor Enzo Collotti aveva scritto libri straordinari proprio per quanto riguarda anche le vicende del confine orientale il significato che che l'occupazione nazista proprio aveva avuto anche nelle nostre terre ricordiamo che Trieste è l'unico luogo in Italia in cui i nazisti hanno costruito un campo di concentramento con forno crematorio sono morte alcune migliaia di persone nella risiera di San Sava però anche per quanto riguarda la risiera di San Sava i processi per ricostruire questa vicenda ed arrivare eventualmente alla punizione dei colpevoli si ebbero appena alla metà degli anni settanta cioè vuol dire che per trent'anni di Repubblica nata dalla resistenza una vicenda come quella della della risiera di San Sava non era mai stata presa in considerazione così come non sono stati puniti i criminali di guerra per capire per esempio che non è difficile fare una guerriglia culturale su queste vicende basterebbe ricordare anche senza che non tutti io capisco possono approfondire hanno possibilità di andare in archivio leggere tutti i libri che sono stati scritti però sapere per esempio che la vicenda delle foibe è stata affrontata in maniera distorta fin dall'inizio perché si doveva creare un contraltare alla Jugoslavia aggredita nel 41 che chiedeva al governo italiano la consegna di 800 criminali di guerra come previsto dal trattato di pace e prima ancora dalla conferenza di Mosca degli alleati che avevano previsto appunto che i paesi aggrediti dall'aleanza nazifascista avrebbero dovuto poter a casa loro processare i criminali di guerra ecco sapere per esempio che l'Italia non non ha consegnato nessuno dei criminali di guerra che la Jugoslavia richiedeva ma neanche i criminali di guerra che richiedevano gli altri paesi neanche la Grecia neanche l'Unione Sovietica neanche la Francia addirittura quindi sapere appunto che i dossier sulle foibe sono stati costruiti iniziando già dal 1944 per far fronte appunto alle richieste della Jugoslavia al governo italiano dei criminali di guerra e che quindi questi dossier si proponevano di raccogliere testimonianze di violenze e crimini commessi dai partigiani praticamente trasformando appunto le vittime in carnefici ecco questi questi dossier raccolti al tempo con questo spirito diciamo obiettivo sono quelli che hanno fatto poi da base a tutta la narrazione sulle foibe nel dopoguerra noi abbiamo Claudia Cernico in particolare ha analizzato questi dossier e abbiamo stabilito che almeno due degli importanti testimonianze che erano contenute che sono contenute erano false per dichiarazione stessa di coloro che a cui vengono attribuite allora noi non siamo un piccolo gruppo di storici ognuno di noi lavora e fa altre cose e non e non possiamo metterci ad analizzare tutti questi dossier e vedere quanti altri sono ancora falsi oltre a quelli che abbiamo potuto analizzare noi però come diceva mi pare Tommaso Fattori o forse Andrea non so nell'introduzione la giornata del ricordo se poteva avere un senso era quello di cominciare a studiare queste vicende capire la complessità di tutta questa storia e quindi una cosa per esempio sarebbe analizzare storiograficamente questo dossier delle violenze subite dagli italiani dai partigiani jugoslavi dossier che è stato pubblicato alcuni anni fa dalla regione Lazio e distribuito a tutte le scuole esattamente come erano stati scritti nel 1945 e 1946 senza nessun tipo di commento storico allora io dico tutte le facoltà di storia contemporanea e di storia dei rapporti internazionali di storia diplomatica e tutto quello che esiste in Italia nelle varie università in tutti questi anni in cui si parla in maniera così ossessiva di queste vicende cosa hanno fatto qualcuno qualche studio è stato fatto ma non evidentemente in maniera sufficiente non so Davide Conti e qualcun altro hanno studiato bene tutta la vicenda dei dei crimini di guerra ma la quantità di cose che sarebbero da studiare è enorme ci sono tutti gli elenchi per esempio di coloro che sono stati definiti deportati dagli Jugoslavi che erano elenchi in genere di persone che erano stati collaborazionisti dei nazisti che avevano fatto parte delle varie formazioni militari di italiani che avevano collaborato nella Diretis Christenland con i nazisti ecco invece questi passano per essere stati deportati solo perché italiani questi 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 elenchi non so oggi dovrebbero essere presi in mano e analizzati per esempio noi come Resistenza Storica per un buon numero di questi di questi elenchi abbiamo fatto un lavoro e abbiamo pubblicato anche i libri dimostrando che questi elenchi erano spesso pieni di doppioni c'erano attribuzioni errate i nomi addirittura errati fra questi elenchi c'erano anche persone che erano morti nei campi di concentramento nazisti insomma per quanto riguarda i deportati e ancora di più per quanto riguarda quelli che sono considerati in foibatti questo tipo di lavoro di analisi dei documenti oggi sarebbe molto più facile farlo che non negli anni 90 perché con internet con il computer il lavoro che una volta richiedeva andare negli archivi tirare fuori i nomi copiarli confrontarli con altri con altri elenchi cercare altri elenchi scrivere tutto insomma oggi con con il computer potrebbe essere fatto molto molto più facilmente riscontro di nomi corrispondenti oppure no vedere se si trova in altri in altri siti insomma cioè un un lavoro che oggi sarebbe possibile farlo e che è questo che dovrebbe essere fatto per stabilire poi cos'è successo veramente sul confine orientale chi sono state le vittime e chi i carnetici oltre poi a questo lavoro di tipo storiografico che non viene fatto ci sono poi anche i discorsi di tipo logico cioè per quanto riguarda la storia del confine orientale è l'unica in cui si fa iniziare la storia in un dato momento cioè si fa iniziare la storia o l'8 settembre del 43 oppure il primo maggio del 45 prima non c'è stato niente certo l'articolo 1 della legge dell'istitutiva del giorno del ricordo dice delle foibe dell'esodo e della più complessa vicenda del confine orientale ora di questa più complessa vicenda non se ne parla io ho sentito oggi alle 4 avevo assistito all'inizio della commemorazione che avviene che avveniva in senato del giorno del ricordo della più complessa vicenda del confine orientale praticamente non si è parlato però anche l'inversione cronologica dei fatti la più complessa vicenda del confine orientale dovrebbe avvenire prima delle foibe e dell'esodo in cosa consiste quella complessa vicenda l'ha ricordato anche Tommaso Fattori l'aggressione alla Jugoslavia del 71 del 41 i vent'anni di fascismo disnazionalizzazione poi la prima guerra mondiale che è stata combattuta soprattutto sulle nostre terre quindi qualche conseguenza gravissima non è difficile immaginarla e studiarla e anche prima l'irredentismo adriatico insomma se non si tiene conto di tutto questo come si può far cominciare la storia l'8 settembre del 43 o il primo maggio del 45 e poi un'altra cosa ancora di tipo logico che non viene tenuta presente logico che naturalmente se tenuta presente dovrebbe invece portare a un approfondimento storiografico in tutta questa vicenda complessa del confine orientale nessuno prende mai in considerazione cioè si parla soltanto degli Jugoslavi e del partito comunista non si prende mai in considerazione di cosa facevano nel contempo gli italiani ma non soltanto la Repubblica sociale che quindi era alleata dei nazisti magari questo lo si sa ma cosa faceva anche il governo del sud il governo che era quello considerato antifascisti formato dai partiti che al nord combattevano contro l'occupazione tedesca il il governo del sud prima il governo Badoglio aveva al proprio interno proprio generali e persone che avevano aggredito la Jugoslavia il generale Taddeo Orlando che è quello che nella notte del 22-23 febbraio 1942 al comando della divisione Granatieri di Sardegna circonda la città di Ljubljana con un reticolato trasformandola in un enorme campo di concentramento per favorire e facilitare le rettate diventa ministro del governo Badoglio il governo Bonomi lo nomina capo dell'arma dei carabinieri altri personaggi che la Jugoslavia richiedeva come criminali di guerra fecero parte dei vari governi anche nei primi anni della Repubblica questo è un fatto poi un'altra cosa da tenere presente si parla delle rivendicazioni della Jugoslavia e si dice che la Jugoslavia aveva pretese su territori italiani le pretese che aveva la Jugoslavia sui territori italiani erano quelli sostanzialmente che erano abitati da geloveni e croati oppure territori misti dove c'erano anche italiani evidentemente è una richiesta che potrebbe essere discussa e valutata politicamente ma è esattamente quello che aveva fatto l'Italia con la prima guerra mondiale arrivando praticamente con i confini fino quasi a Ljubljana e quello che aveva fatto poi nel 41 annettendo la provincia italiana di Ljubljana e facendo diventare la città di Ljubljana una città sotto dominio italiano ma le posizioni cioè le richieste del mondo antifascista italiano non comunista quali erano? Erano di mantenere i confini del trattato di Rapallo cioè mantenere i confini in cui erano stati repressi fino a pochi anni prima fino a due tre anni prima circa 500.000 sloveni e croati capite anche voi che se noi non teniamo conto di quello che faceva anche l'Italia negli stessi anni tutto cambia di significato gli unici agenti sono i partigiani jugoslavi e eventualmente il partito comunista per quanto riguarda l'Italia dicendo appunto che i comunisti appoggiavano le rivendicazioni jugoslave ma se noi teniamo presente qual era contemporaneamente il comportamento di molte formazioni anche antifasciste italiane capiremo che i partigiani jugoslavi potevano per esempio avere qualche dubbio su quello che sarebbe successo nel dopoguerra nei loro confronti se non avessero fatto delle rivendicazioni cioè questo non significa giustificare ridurre negare significa semplicemente tener conto di tutti gli elementi storici che si incontrano in una situazione che stiamo analizzando e non avere un atteggiamento nazionalista e non valutare nel 2020 o insomma negli ultimi decenni si dovrebbe la storiografia italiana dovrebbe capire che deve cercare di analizzare in maniera obiettiva la situazione le rivendicazioni gli atteggiamenti i comportamenti di tutte le parti in causa non soltanto di una delle due parti ecco quindi il lavoro da fare secondo me è tantissimo le cose da dire sarebbero ancora tante altre magari se ci sarà la possibilità anche di una ripresa poi approfondirò qualche altro aspetto quello appunto che tengo a ribadire tenendo conto appunto di qual era il tema di questa conferenza è che secondo me noi non possiamo al giorno d'oggi far troppo affidamento sui giornali sulle televisioni cioè sui mass media e anche su chi ha dei ruoli istituzionali per far trionfare in qualche maniera la verità storica dobbiamo far riferimento soprattutto su noi stessi sulla capacità di raccontare di studiare di approfondire e naturalmente cioè se professori come Tommaso Montanari sanno esporsi in una maniera così aperta vuol dire che probabilmente siamo anche sulla buona strada grazie tutto Alessandra grazie sia della qualità dell'intervento che dell'invito prima di passare un secondo la parola a Tommaso è chiaro che in un paese dove un tempo la storiografia la faceva a Momigliano la fa Bruno Vespa ci sono dei grossissimi problemi passo volentieri la parola a Tommaso siamo come relazione estremamente felici di vederla a queste latitudini il consenso l'ha capito cioè siamo sereni e liberi di esprimerci non c'è alcun problema quindi vai tranquillo che ti ascoltiamo molto volentieri grazie grazie davvero per questo invito che mi fa molto piacere è una compagnia davvero molto onorevole ho ascoltato con grandissimo interesse profonda sintonia i due interventi che mi hanno preceduto imparando molte cose e lasciatemelo dire anche come dire un po' confortandomi perché non sono stati giorni facilissimi ogni tanto mi avete visto col telefono seguendo quello che succede alla mia università dove siamo circondati dalla polizia con altre manifestazioni fasciste ancora ora perché i fascisti sono per fortuna anche sciocchi per cui avevano sbagliato giorno e metà sono venuti a manifestare contro il seminario il giorno dopo diciamo almeno questo è come dire il senso della storia non li abbandona mai diciamo è il senso del tempo e detto questo naturalmente non parlerò e questo ormai devo dirlo e precisarlo ogni volta per evitare almeno una parte delle strumentalizzazioni naturalmente quando sono come rettore cioè sono un rettore e parlerò anche dell'università ma non rappresento in questo momento la mia università come invece la rappresentavo ieri pomeriggio il seminario che abbiamo fatto è ciò che deve fare l'università italiana peraltro a cui la Costituzione della Repubblica riconosce libertà e autonomia esattamente ciò per cui le università esistono e oggi ho fatto un comunicato dicendo che l'università presideniale di Siena non risponde a nessuna critica politica o a nessun attacco giornalistico perché l'unico modo possibile per interloquire con ciò che si è detto ieri è nel dibattito scientifico nelle sedi e nei modi propri al dibattito scientifico e questo è credo molto importante da dire qua sono un cittadino che fa il professore e in questo momento per i prossimi sei anni come si dice come dicevano i gesuiti di v deo volente anche il rettore deo volente non volenti i ministri o i giornalisti volevo iniziare e sarò come dire spero non lungo anche perché sono stravolto citare e leggere brevemente un passo peraltro famosissimo di Walter Benjamin in ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello storico che è compenetrato dall'idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico se il nemico vince e questo nemico non ha smesso di vincere sono parole altissime anche a ragione di chi le ha espresse della fine della sua vita ma soprattutto di ciò che ha detto nella sua vita e io direi che purtroppo siamo nella condizione di constatare per l'ennesima volta che sta succedendo esattamente ciò che Benjamin profetizza lo vorrei dire senza tanti giri di parole siamo in un punto in cui quel nemico ha ancora una volta vinto non è ancora preso formalmente il potere potrebbe succedere da qui a poco succede in Europa in tante nazioni intorno a noi anche nazioni dell'Unione Europea e potrebbe succedere anche in Italia però certamente vince egemonizza il discorso pubblico e questo va riconosciuto con molta con molta sincerità con molta chiarezza perché è l'unico modo per cominciare a invertire la rotta provare a invertire la rotta quel nemico ha vinto e infatti non sono sicuri neanche i morti non sono sicuri i morti i partigiani non è sicuro la storia l'unica vera storia ed è quello che diceva Benjamin pensando al lavoro dello storico al compito dello storico il secondo testo che volevo ripercorrere con voi e mi scuso se devo citare un pisano che critica olivornese ma insomma nessuno è perfetto è un testo di un autore che a differenza dei politici dei politicanti di coloro che erano legati magari anche in buona fede da mille preoccupazioni contingenti vedeva lontano e cioè vedeva esattamente il punto in cui siamo noi io credo che una delle metafore adatte per descrivere la situazione in cui ci troviamo è che siamo alla deriva e che siamo alla deriva ormai parecchio lontani in un mare minaccioso in cui non si scorge più la riva a dire che l'Italia stava andando alla deriva nel 1994 fu Antonio Tabucchi che scriveva con grande coraggio intorno a ciò che un presidente della Repubblica livornese Carlo Azzerio Ciampi aveva detto vorrei citare alcune parti di questo articolo perché sono anche per come dire per dirci Alessandra Kerserman come dire lo ha fatto per tutta la vita quindi c'è lei qua ma che anche altri che non erano specialisti e che non erano legati a quella terra qualche altro l'aveva detto e che diciamo tutti coloro che hanno provato a parlare non sono stati ascoltati ora riascoltarli oggi fa una certa impressione ho l'impressione non vi leggerò tutto l'articolo naturalmente ho l'impressione che l'Italia sia alla deriva e alla deriva politica rappresentata da un governo siamo al 94 primo governo Berlusconi con una forte percentuale di ex fascisti e da un primo ministro con un impero economico di provenienza mai rivelata e proprietario di quasi tutta l'informazione italiana a questo si aggiunge una deriva ideologica che oggi trova il suo culmine in una dichiarazione del presidente della Repubblica Carlo Azzerio Ciampi domenica 14 ottobre durante una cerimonia sulla resistenza in un paese vicino a Bologna ha pronunciato parole che ritengo improponibili per una Repubblica nata dall'antifascismo forse ritenendosi difeso dal fatto di aver partecipato alla resistenza ha affermato e queste sono le parole di Ciampi abbiamo sempre presente nel nostro operare quotidiano l'importanza del valore dell'unità d'Italia questa unità che sentiamo essenziale per noi quell'unità che oggi a mezzo secolo di distanza dobbiamo pur dirlo era il sentimento che animò molti dei giovani che allora fecero scelte diverse che le fecero credendo di servire ugualmente l'onore della propria patria da Bucchi non si faceva pregare per spiegare che cosa voleva dire Ciampi e continuava così con le eufemistica circollocuzione giovani che fecero scelte diverse il presidente italiano non può che riferirsi ai nazifascisti di Salò cioè a quelle persone che si schierarono militarmente con Mussolini e Hitler dopo la resa dell'Italia il punto è che Ciampi non si può permettere di dire ciò che vuole perché dall'alto della sua carica fornendo informazioni errate ai giovani e ai cittadini e in particolare a coloro che non hanno accesso allo studio della storia e gli disorienta gravemente l'opinione pubblica già fortemente disorientata che coloro che avevano scelto il nazifascismo fossero animati da un sentimento di unità d'Italia è una falsità storica grossolana e qui Tabucchi spiega lungamente perché e finisce attualizzando dicendo Ciampi si appella alla presunta buona fede specificando che certi giovani fecero scelte sbagliate e lasciando intendere che queste scelte sono da assolversi perché furono fatte in buona fede con lo stesso ragionamento qualcuno potrebbe arrivare ad assolvere i terroristi di Billaden che sono senz'altro animati dalla buona fede anzi da troppa buona fede lunedì 15 ottobre quando a Parigi è arrivata la notizia del discorso di Ciampi in un'aula della Sorbona il giurista Antonio Cassese chiudeva il corso della Cattedra Blaise Pascal con un dibattito sulla giustizia penale internazionale e insieme al padre dello statuto della Corte Penale Internazionale e il presidente del Tribunale Internazionale dell'AIA nell'intervallo dei lavori chiacchierando nel cortile con i numerosi studiosi presenti ho letto loro le parole del presidente della Repubblica Italiana mi hanno guardato con stupore uno di loro mi ha condotto davanti alla lapide della Corte d'Onore dove sotto lungo elenco di nomi c'è scritto ai professori e agli studenti caduti per la Francia 1939-1945 l'unità della Francia è lì nei nomi delle persone di quella lapide non in coloro che furono i loro assassini se il presidente Chirac venisse a raccontare a questi studenti che i collaborazionisti e i poliziotti di Vichy avevano comunque agito per l'onore della patria lo prenderebbero a fischi in Italia non fischia nessuno il blanchissage oggi si direbbe il greenwashing di Salò è cominciato da tempo e qui naturalmente si cita il discorso di Violante e alla fine Tabucchi chiude sull'attualità più stretta quanto all'unità del paese a cui Ciampi sembra tenere tanto non mi spiego perché quando Berlusconi gli ha presentato il suo governo non abbia fatto obiezioni su Umberto Bossi come ministro delle riforme istituzionali l'Italia oggi è un presidente della Repubblica che per difendere l'unità del paese va a riesumare coloro che nel 43-45 fecero le scelte peggiori è un ministro delle riforme istituzionali che vorrebbe fare la Repubblica della Padania Indipendente che l'Europa aiuti l'Italia ora diciamo Tabucchi aveva visto lontano e aveva visto che quelle parole ci avrebbero portato profondamente nei guai alla deriva in un altro intervento dice questo tentativo di pacificazione nazionale sembra considerare che i fascisti siano agli assiro-babilonesi ma non sono così lontani un terzo del Parlamento italiano è fatto da fascisti diceva Tabucchi noi ci diciamo sempre che i costituenti italiani erano presbiti cioè vedevano male i loro interessi vicini riuscivano a mettersi d'accordo tra comunisti democristiani socialisti azionisti liberali per il futuro dell'Italia c'è un bellissimo passo di un discorso di Palmiro Togliatti incostituente in cui Togliatti cita Dante e dice siamo quelli che camminano al buio ma recano dietro la schiena una lanterna quella lanterna è la Costituzione accanto a questa lungimiranza questa capacità di vedere lontano è terribile constatare la miopia di coloro di cui invece parla Tabucchi cioè di una classe politica che guardando il desiderio immediato di legittimare coloro che stavano arrivando al governo del paese ricordo che Silvio Berlusconi dirà senza remore senza veli ho costituzionalizzato i fascisti portandoli al governo della Repubblica e devo dire che era una dichiarazione onesta perché non ha detto i post fascisti o gli ex fascisti i fascisti che non avevano nessuna intenzione di smentire la loro appartenenza a quella tradizione ecco facendo quella operazione e il libro di Filippo Focardi La guerra della memoria fa capire molto bene come Ciampi che parte dal sincero desiderio sincero desiderio di rimettere in circolo l'importanza della guerra di liberazione della resistenza si trova da presidente ad avere un assalto di lettere di petizioni di interlocuzione da parte di una destra che era arrivata al potere al governo gli atti del presidente della repubblica sono controfirmati dai ministri il presidente è politicamente irresponsabile e la retorica di Ciampi comincia a diventare una retorica che suo malgrado accoglie sempre di più il punto di vista dei fascisti è una tragedia diciamo quella che si che si consuma in quei discorsi presidenziali e che però è come dire l'antefatto Tebucchi diceva apriamo la strada a una deriva che ci trascinerà via l'approvazione della legge sul giorno del ricordo esattamente dieci anni dopo nel 2004 è una conclusione in cui come ha scritto molto lucidamente Eric Gobetti il punto di vista della destra neofascista entra nella retorica istituzionale dei vertici della Repubblica nel calendario civile della Repubblica ora queste cose diciamo così sono storia il seminario di ieri non parlava dei fatti del confine alto adriatico ma parlava della genesi del giorno del ricordo che è una cosa su cui bisogna cominciare a ragionare in questi termini come si arriva ci sono molti modi per farlo si può analizzare il dibattito parlamentare mi piace ricordare il bellissimo discorso con cui un senatore allora Gianfranco Pagliarulo attuale presidente dell'AMP votò contro l'istituzione del giorno del ricordo con argomenti importanti e di peso ma furono pochissimi coloro che votarono contro la legge sul giorno del ricordo fu approvata a larghissima maggioranza in un parlamento totalmente in memore della sua costituzione e ripiegato ombelicalmente sul presente totalmente in memore del passato e qui si va a toccare un problema enorme e cioè che come dire la la narrazione storica di uno stato antifascista la costruzione di un calendario civile antifascista non può reggere nel momento in cui alla guida di quello stato ritornano i fascisti perché sebbene diciamo le conquiste della storiografia siano indiscutibili e indisputabili e si possa parlare di una verità non con la V maiuscola ma della verità storica ormai assodata la costruzione di una memoria civile di un calendario civile dipendono evidentemente dalla politica e se diciamo a un certo punto alla guida dell'Italia tornano i fascisti non passa molto tempo che quella memoria antifascista quel calendario civile quella coscienza si sfarini si infranga si imbratti si sporchi fino ad arrivare all'esito di oggi e non si rimedia certo e su questo sarebbe bello il primo dibattito ieri un po' ne abbiamo discusso a Siena non si rimedia certo fuori tempo massimo con delle leggi come quella del 2016 sul negazionismo che invocano i tribunali della giustizia penale per punire chi nega l'olocausto perché e credo che avesse ragione Carlo Ginzburg che molti storici che si opposero perché si risolveva nei tribunali qualcosa che bisognava risolvere nelle scuole nelle università nella coscienza civile quando si arriva a quel tentativo la battaglia già perduta non solo ma si costruisce una pistola che verrà messa nelle mani di chi sarà il guardiano della successiva ortodossia ideologica e la proposta attuale non so per quanto ferma perché certamente se Fratelli d'Italia vince le elezioni avrà una sarà immediatamente ritirata fuori dai cassetti la proposta di estendere la categoria del negazionismo anche a chi negherebbe le foibe con questa espressione già in sé come dire carica di falsità e però bisogna riflettere su come dire quel tardivo e peloso tentativo di salvare l'antifascismo attraverso tribunali che peraltro lo sappiamo non sono mai riusciti nemmeno ad applicare la legge Scelba la legge Mancino perché di fatto diciamo siamo pieni di minuscoli tentativi di rifondazione del partito fascista che nessuno punisce in questo paese allora se questa è la storia e io credo che questa sia la storia non sto a ripetere le cose che avete detto voi molto meglio di quanto le potrei dire io provo a concentrarmi invece su questo segmento più vicino a noi le cose che succedono in questi giorni sono un po' come dire l'epilogo cioè dopo aver conquistato la politica dopo aver conquistato il potere in gran parte io ricordo che in questo momento il presidente della regione Marche organizza cene per festeggiare l'anniversario della marcia sul Roma insomma diciamo le prove fotografiche testuali dell'assenza di una soluzione di continuità fra fratelli d'Italia e le realtà neofasciste e neonaziste sono ovunque diciamo se si arriva a questo punto l'ultimo bastione che rimane da spugnare e come ci è stato appena detto già largamente peraltro è spugnato è quello della scuola e dell'università cioè della formazione delle coscienze civili del futuro l'università soprattutto come ci è stato appena detto parlando di Verona e voglio dire Verona non è una città qualunque in Italia chiunque di voi abbia letto da ultimo il libro di Paolo Berizzi è gradita la camicia nera capisce perché come dire come in che modo in che misura Verona sia la capitale del neofascismo e del neonazismo italiani sulle colline intrambe a Verona ogni anno il 16 se non ricordo male aprile insomma il giorno del compleanno di Hitler si tiene un concerto in onore di Hitler a cui partecipano associazioni che poi come dire partecipano ai finanziamenti del comune hanno contribuito all'elezione del sindaco attuale Verona è un caso diciamo estremo Erigobetti appunto Erigobetti con cui ero fino alle 3 di pomeriggio non ha potuto partecipare a una lezione in un liceo perché gli è stato detto che altrimenti avrebbe dovuto avere un confronto con un giornalista che è quello di cui si parlava la presenza di un assessore dei fratelli d'Italia con questa idea che diciamo così appunto la politica possa decidere in modo spicciolo su ciò che si insegna nelle aule con un controllo diretto da da diverso tempo e oggi con particolare foga a Siena appunto la città in cui sono sono rettore si chiedono le mie dimissioni con ricordo che i lettori sono eletti dalla comunità accademica ma c'è un partito che è Fratelli d'Italia che raccoglie le firme per strada per le mie dimissioni a chi è intitolata la sezione di quel partito che sta raccogliendo le firme? A Giorgio Almirante segretario della difesa della razza volevo leggere due parole di un articolo di Giorgio Almirante sul primo numero della difesa della razza in cui è un articolo come dire che se non fosse tragico sarebbe comico in cui Almirante fa lo storico e spiega la caduta dell'impero romano attraverso il meticciato la razza l'imbastardimento del sangue italiano italiano naturalmente favorisce e determina la caduta dell'impero romano il titolo dell'articolo è l'editto di Caracalla un semibarbaro schiana la via ai barbari e a un certo punto Almirante si chiede se gli italiani gli studenti italiani sapranno mai questa verità storica e scrive la prenderanno dunque all'università quei pochi tra essi che sceglieranno gli studi letterari ma così fosse ma all'università si è troppo occupati nello studiare quel riguardo sostende il Monsen o il Meyer o Gino Segret oppure Aldo Segret tutti i bei nomi italici come si vede si è troppo occupati nel frazionare e disintegrare e polverizzare la cultura e non si ha naturalmente il tempo di risalire ai principi generali che sarebbero quelli che gli vorrei illustrare è trovo particolarmente significativo non ci sarebbe certo bisogno di questa minima citazione sappiamo da bene altre cose ma che diciamo si provi ad assaltare l'autonomia dell'università in epoca repubblicana e costituzionale dentro una sezione intitolata da Giorgio Almirante che contestava i professori ebrei dell'università italiana pretendendo in quegli anni di fare ciò che il regime poi riesce a fare grazie anche alla viltà dei professori universitari che è una costante eterna cioè quella di mettere le mani sull'università stessa ieri un'interrogazione parlamentare della Lega ha chiesto alla ministra dell'università riferendosi a me se sia legittimo che un rettore possa assumere liberamente iniziative di critica esplicita di una legge dello Stato chiederei volentieri a questi quattro senatori cosa pensano che succeda nei dipartimenti di giurisprudenza cosa pensano che succeda nell'università italiana tutta ma è sinistro quel liberamente il governo deve dire se un rettore è libero di fare una critica a una legge dello Stato vorrei ricordare che questi partiti sono tutti e due fratelli di Italia e Lega e il governo nella città di Siena come ormai in mezzo a Toscana e che qualche tempo fa quando ero solo un professore della mia università mi fu impedito di andare a presentare un libro di Chiara Frugoni sul buon governo nella strada del buon governo del palazzo pubblico era ministro Salvini e il sindaco di Siena fece sapere che non ero gradito lì dentro e alla fine dopo un grottesco e tragicomico scambio di lettere con il rettore e con il mio predecessore fui ammesso a quella presentazione purché mi impegnassi a non parlare di politica molto bello presentare un libro sul buon governo io rischi che avrei parlato del buon governo e naturalmente secondo una tradizione molto cara agli italiani Manzoni non solo parlai del presente attraverso il passato siamo sempre stati costretti a farlo continuiamo a farlo anche ora anche questa è una costante io per certi versi sono inciampato nella questione delle foibe e lo vorrei dire molto chiaramente e questo testimonia e lo dico per dare ragione ad Alessandra in quello che ha appena detto e anche chiederle scuse in qualche modo a nome mio ma spero anche a nome di tanti altri colleghi perché per tanti anni come dire non ho sentito il dovere di intervenire io storico dell'arte che mi occupo di barocco mi occupo di tutt'altro come dire accanto a chi subiva ciò che ci ha descritto e com'è successo che invece ci sia finito perché quest'estate mi sono trovato a scrivere una serie di articoli per cercare di impedire la nomina al vertice dell'archivio centrale dello Stato di uno che non era un archivista e che da direttore della biblioteca nazionale di Roma aveva accolto il fondo di Pino Rauti diramando un comunicato in cui si definiva Rauti uno statista io francamente quest'estate voglio fare tutt'altro ma quando il presidente dell'associazione delle vittime delle strage di Bologna mi chiese di aiutare loro i familiari delle vittime di Piazza Fontana e di altre stragi non potevo certo dirgli di no e ho scritto un articolo raccontando come questo arrivo all'archivio centrale dello Stato era solo un tassello in un ampio disegno di revisionismo di Stato che aveva avuto successo e citai la legge del giorno mi ricordo come quello che per me era ovviamente un successo del revisionismo di Stato e citai estesamente un articolo di Angelo Dorsi che in realtà era la lettera aperta di Angelo Dorsi a Mattarella dopo il terribile discorso di Mattarella del 10 febbraio 2020 che ricalcava il ancora più terribile discorso di Napolitano nel 2007 discorsi in cui si parlava di polizia e discorsi completamente allineati diciamo sulla volgata dell'estrema destra ho citato tra virgolette l'articolo di Dorsi delegando a uno storico contemporaneo che non sarà uno specialista di esattamente di quei fatti ma certamente come dire una voce autorevole e peraltro era una lettera aperta di uno dei pochi storici che parlano dall'università italiana diretta al capo dello Stato e di lì con mio stupore ingenuo diciamo grazie a mia ingenuità fui travolto il giorno dopo Giorgio Ameloni chiedeva la mia espulsione dall'università italiana sulla pagina del giornale e lì mi sono reso conto che ciò che per me come dire da questo punto di vista veramente lì c'era il paese delle meraviglie era ovvio non si poteva più dire non si poteva più dire in questo paese perché l'egemonia del discorso pubblico stava saldamente nelle mani dei fascisti diciamo non saprei come altro chiamarli arrivati a questo punto io credo che quello che dobbiamo fare è ciò che da una parte ho provato a fare ieri come rettore che continuerò a fare anche se lo devo fare con la digos in aula e con i blindati fuori devo dire che è un po' umiliante ma come dire diciamo finché si può si deve fare e lo farò e dall'altra come cittadino come professore come ricercatore provare a dare una testimonianza credibile è quello che ho provato a dire celebrando la giornata della memoria il 27 gennaio nella mia università con il rettore dell'università di Siena e con la prefetta di Siena e cioè ho detto che come dire non si dà una testimonianza credibile nemmeno per la giornata della memoria se si subisce il fascismo di oggi perché i nostri studenti i migliori i più svegli tra i nostri la nostra studentessa e i nostri studenti guardandoci si chiedono che cosa avremmo fatto noi negli anni 30 o negli anni 40 e le risposte sono drammaticamente chiare sulla faccia di molti di noi e dunque non si può essere credibili testimoni del passato se non si è come dire testimoni nel presente e cioè se non si è impegnati oggi Mark Bloch che lo vorrei ricordare muore fucilato dalla Gestapo nel 44 dopo essere stato cacciato dall'insegnamento della Sorbonne in quanto ebreo e mentre scrive Lascia il Compiuto il libro che personalmente mi ha spinto a fare lo storico anche se lo storico dell'arte l'apologia della storia ho un mestiere di storico dice in quel meraviglioso libro che come dire si dice sempre che la storia insegna a comprendere il presente e dice che la storia non è la scienza del passato ma è la scienza degli uomini nel tempo ma che si dovrebbe anche dire che chi non ha un forte vitale interesse per il presente non è in grado di capire il passato e cioè che queste due dimensioni sono inseparabili e racconta l'episodio di Harry Piren il suo maestro che arriva a Stoccolma lo vogliono portare a vedere un museo dei vichinghi e dice ma io vorrei andare a vedere il municipio modernissimo e di fronte allo stupore risponde sono uno storico perché amo la vita se no avrei fatto l'antiquario devo dire un blocco che racconta Piren in modo strepitoso ecco io credo che tenere in tensione il passato e il presente avere un impegno avviso aperto riconoscibile oggi sul presente sia l'unica condizione per essere testimoni credibili della memoria e della storia e che questo sia il punto e che in un momento in cui le istituzioni i vertici della Repubblica e la maggior parte dei nostri colleghi diciamo tradiscono la testimonianza di pochi sia l'unico mezzo credibile perché qualcuno fra i più giovani possano continuare a credere alla storia di quei morti che oggi non sono più sicuri perché quel nemico come diceva Benjamin ha ripreso a vincere grazie allora innanzitutto ringrazio anche Tommaso di avere veramente così scolpito l'ultima perla di questo seminario dopo Tommaso e Alessandra ci avete dato una serie di spunti importanti per come si potrebbe dire accogliere i vostri ragionamenti dietro il paradigma nel quale avevamo costruito il seminario cioè come è potuto accadere perché Orwell è atterrato in Italia qual è la possibilità così di inversione di tendenza e ognuno di voi ha sottolineato alcuni elementi che io ritengo veramente opportuni dal discorso più specifico come si potrebbe dire legato al così al leggere e scrivere la storia ma soprattutto fare il lavoro d'archivio da parte di Alessandra alla proposta di legge nazionale da parte di Tommaso che mi sbaglio sempre e invece il più specifico impegno civile dell'università che purtroppo come sappiamo ne conosce poco poca di questa dimensione negli ultimi anni io penserei anche per deformazione professionale che entro un ottimo esercizio di guerriglia marketing queste considerazioni estremamente importanti che sono state mosse oggi possono trovare adeguata veicolazione cioè in realtà si è creato così una sovrapposizione dei nuovi e vecchi media che veramente ha costruito un campo di realtà e un campo di forza piuttosto spesso ma anche non solo scalfibile ma è un campo di forza che si può rompere mettendo insieme competenze e così anche provenienze molto diverse fra di loro ora io faccio una breve considerazione leggendo i commenti di chi ci ha seguito fino a ora è bellissimo sembra di essere a festival di Serremo vi fanno tutti un sacco di complimenti ci fosse uno che ne so un insulto che magari si può anche rispondere in maniera un po' vivace no no proprio tutti i complimenti bravissimo bravissima cioè sembra aver mobilitato il tale voto per come si potrebbe dire per assegnare la palma del vincitore invece non è così ora io farei così lascerei ai nostri relatori quel paio di minuti a testa per dire qualsiasi cosa intendono intendono dire poi quando concluderò la trasmissione ci salutiamo nella camera oscura cioè ritorniamo da dove eravamo venuti precedentemente per i saluti poi noi lo sapete che vogliamo fare un'iniziativa seria dal vivo in primavera e magari ci scambiamo due idee e poi ovviamente i saluti e anche i ringraziamenti per chi è intervenuto ovviamente l'ora non è facile è un'ora lavorativa tutti abbiamo sottratto nel tempo professionale a questo genere iniziativa ma ne valeva la pena io per il paio di minuti di considerazioni comincerei prima da Tommaso poi da Alessandra e poi da Tommaso diciamo l'ordine con il quale abbiamo svolto la giornata di oggi da parte mia e da parte della lezione di codice rosso che in questo momento rappresento variegata vivace attenta vi ringrazio molto e vi invito già da ora alle prossime iniziative prego Alessandra poi Tommaso e poi Tommaso e poi chiudiamo ho seguito con commozione anche l'intervento di Tommaso Montanari perché evidentemente si sta vivendo una situazione difficilissima da affrontare penso da tutti i punti di vista ma mi pare che appunto abbia la forza e il coraggio per farlo e quindi penso che sarà una una prova importante per tutti noi insomma a nome anche del gruppo di resistenza storica ti diamo tutta la nostra solidarietà la cosa che volevo dire ancora rispetto al discorso che ho fatto prima è un ragionamento velocissimo sul discorso della memoria condivisa che è un termine che è stato molto usato in questi anni nel senso che si dovrebbe trovare una sorta di storia a metà incontrarsi da un estremo all'altro si trova il mezzo un po' il solito discorso che fa sì che poi possano essere tutti contenti ma non ci si avvicina di un millimetro alla realtà di quello che è successo o alla valutazione corretta dei fatti ecco io credo che non possa esistere la memoria condivisa può esistere la volontà di studiare di confrontarsi di alimentare un dibattito che può essere anche con toni più o meno appassionati ma quello che è successo nelle terre del confine orientale anche insomma in tutta la seconda guerra mondiale non può essere contrabbandato come è stato anche ricordato penso da Tommaso Montanari e anche da Tommaso Fattori con le esigenze della politica attuale e gli storici devono poter approfondire ma anche le scuole anche gli studenti devono poter approfondire cioè non c'è un clima oggi in cui si possa parlare nelle scuole di questi fatti in maniera tranquilla i libri di storia delle superiori dei licei non so se avete avuto occasione di analizzarne alcuni o dedicano pochissime righe a questi fatti o ne parlano in maniera quasi con disagio oppure raccontano storie che non stanno in cielo o in terra addirittura sbagliando i fatti l'ordine cronologico cioè come se chi ha scritto questi libri di storia in questi ultimi anni anche di importante case editrici che si dedicano alla didattica abbia il timore proprio di dire qualcosa che possa far scatenare contro di loro tutti i rimproveri possibili immaginabili e una bufera di 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 critiche eccetera sì questo avviene è avvenuto e avviene sulla questione del confine orientale delle foive dell'esodo e sta avvenendo in Italia anche su tanti altri argomenti adesso non è possibile qui approfondire perché bisognerebbe iniziare un'altra conferenza ma secondo me questo modo di imporre politicamente la versione ufficiale delle cose indiscutibile è stata esercitata su questa questione del confine orientale delle foive dell'esodo e si sta oggi usando su tantissime altre delle vicende che stiamo vivendo in Italia e nel mondo quindi questa battaglia non riguarda soltanto la vicenda in se stessa delle foive dell'esodo del confine orientale della memoria dei partigiani della Jugoslavia della resistenza italiana eccetera ma riguarda un po' tutto il modo di affrontare la conoscenza di affrontare la ricerca si sta cioè imponendo una un aristotelico principio d'autorità cioè si deve credere a chi in quel momento ha l'autorità per imporre una determinata versione del fatico tutto questo è addirittura credo terribilmente dannoso per l'umanità stessa non soltanto per la storia o per la conoscenza ma insomma è in grado di impedire lo sviluppo dell'umanità e di imporre un tallone di ferro sulla conoscenza e quindi io credo che la vostra iniziativa di oggi sia anche nel titolo molto opportuna e vi ringrazio ti ringrazio passo la parola a Tommaso grazie dunque io non posso che concordare con tutto che ho detto e mi limito proprio a delle brevissime considerazioni vabbè intanto io insisto su un punto cioè credo che dobbiamo in tutte le maniere contendere questa ricorrenza alla retorica nazionalista fascista e post fascista a partire proprio dalla centralità del lavoro delle storiche e degli storici e dalla ricerca appunto scientifica dalla ricerca storica credo che siamo ancora in tempo per farlo proprio perché non è avvenuta grazie al cielo quella conquista della scuola dell'università a cui faceva riferimento anche Tommaso quindi certamente non è un compito semplice certamente ce lo siamo detti ruolo che gioca oggi la politica per i suoi interessi appunto di composizione di questa falsa memoria condivisa e del mondo mediatico però dall'altro lato io credo che ancora vi siano grazie al cielo molte energie non solo fra la cittadinanza ma appunto anche nei luoghi di studio e credo che questo sia diciamo il primo elemento faccio una piccolissima annotazione dicendo che poi a proposito del ruolo del giornalismo mainstream cioè del pessimo ruolo del giornalismo mainstream mi ero appuntato oltre all'articolo di oggi di Grasso sul Corriere per appunto anche il caso Kerser Van Vespa che poi è stata Alessandra stessa a menzionare cioè quello appunto della foto interpretata al contrario la foto di Dania appunto dei cinque sloveni fucilati dai soldati italiani che è stata a lunghissima interpretata al contrario perché io poi mi rividi non in diretta insomma rividi quel pezzo della puntata con Bruno Vespa rimanendo francamente con appunto Alessandra Kerser in studio da Bruno Vespa rimanendo assolutamente basito dal modo in cui appunto i principali giornalisti italiani affrontò la 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 diciamo la notazione che era stata fatta perfettamente a ragione e tra l'altro mi dispiace di avere anche appreso proprio oggi che non c'è stato modo di avere una riparazione insomma che poi significa il riconoscimento del fatto che esiste per l'appunto una verità e che questa verità era esattamente quella sostenuta da Alessandra Kerser ma non quella sostenuta da Bruno Vespa e dai vari revisionisti perché quella foto è appunto una foto dove le vittime appunto sono gli sdoveni e le vittime non sono gli italiani posso soltanto dire c'erano anche degli storici altri storici in studio sì sì infatti è incredibile cioè è stata una vicenda incredibile però simbolica appunto di che cosa sta accadendo anche nel giornale io ora poi non voglio perché andremo un po' fuori dal seminato ma insomma il giornalismo italiano credo sia uno dei problemi enormi di questo paese con le debite eccezioni come succede sempre però insomma per chi è abituato magari a seguire anche un po' il giornalismo di altri paesi insomma da noi è impressionante tutto insomma Vespa non ha mai fatto un'intervista degna di questo nome non esistono chiunque viene diciamo così intervistato sulla tribuna italiana non trova mai nessuno che gli oppone argomenti e se dice qualcosa di inesatto il giornalista non interviene a sottolinearlo a incalzarlo cioè viviamo comunque già all'interno di un mondo giornalistico assai particolare ma quell'episodio secondo me è stato diciamo uno dei momenti più bassi della tv italiana rispetto ripeto alle questioni appunto storico storico scientifiche tra l'altro è un fatto incredibile perché questo avviene diciamo avviene su vicende per esempio avviene in un caso in cui si tratta di di materiale fotografico probabilmente lo stesso non succederebbe se si stesse parlando di come dire di formale matematica Tommaso scusami abbiamo dobbiamo curvare verso titoli di coda ah ok abbiamo problemi di tempo perfetto aspetta abbiamo perso Tommaso abbiamo perso Tommaso sì 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 allora vediamo un po' riappare ecco fatto mi pazienza proprio mi richiamavano la regia mi richiamava all'ordine sì sì no niente ecco quindi chiudo semplicemente dicendo che tra l'altro Fausto Biloslavo sempre citato da Kersevan è stato invitato sempre nel consiglio regionale della Toscana per cui Goberti non può andare nelle scuole però poi Roberto Meni e Biloslavo hanno il il palco ufficiale delle istituzioni e tra l'altro ultimissima cosa questa narrazione appunto vittimistica autoassolutoria rispetto al regime fascista ha oscurato poi alcuni aspetti relativi al dramma dell'esodo su cui per esempio invece sarebbe utile riflettere se si leggono alcune testimonianze di esuli per esempio il rifiuto che hanno avvertito da parte degli italiani di aspettarli di integrarli loro proprio profughi percepiti come stranieri magari per questi cognomi strani che ne sottolineavano la diversità insomma questi racconti sono importanti anche perché se a mio parere la memoria deve essere attualizzata allora il famoso mai più per esempio potrebbe voler dire siamo in grado oggi di capire che ad altri profughi stiamo riservando le stesse sofferenze che furono riservate ai profughi con le difficoltà di accoglienza in quegli anni cioè ci sarebbe anche un modo diverso non so come dire di leggere queste vicende legandole all'attualità ma tutto questo lavoro non si può fare perché siamo bloccati dentro la gabbia della ritorica fascista e post fascista grazie ancora per invito e un abbraccio un abbraccio a te e passo subito la parola a Tommaso per la conclusione molto brevemente la cosa più tremenda della circolare del ministero dell'istituzione di oggi che è davvero in un paese civile il ministro per l'istituzione sarebbe già per strada con il calcio nel sedere questo è il governo dei migliori diciamo figuriamoci i peggiori che avrebbero fatto è una è la cosa peggiore è questo rinascita di nazionalismo che è ieri ce ne parlava Marta Verginella è una costante però abbiamo sentitore è una costante cioè l'idea che il punto siano gli italiani gli italiani tutti insieme gli italiani indistinti che si sposti da fascisti e antifascisti a italiani slavi all'etnia al sangue ricordo che il concetto marchesi incostituente disse solennemente il presidio della nazione non è più l'esercito ma è la scuola oggi la scuola ridiventa il luogo del nazionalismo è una terribile involuzione allora volevo finire soprattutto rivolgendomi ai più giovani che spero in qualche modo ci ascoltino con una bellissima riflessione di Carlo Rosselli del 1934 ma sembra scritta oggi siamo antifascisti non tanto e non solo perché siamo contro quel complesso di fenomeni che chiamiamo fascismo ma perché siamo per qualche cosa che il fascismo nega e offende e violentemente impedisce di conseguire siamo antifascisti perché in questa epoca di feroce oppressione di classe e di oscuramento dei valori umani ci ostiniamo a volere una società libera e giusta una società umana che distrugga le divisioni di classe e di razza e metta la ricchezza accentrata nelle mani di pochi al servizio di tutti siamo antifascisti perché nell'uomo riconosciamo il valore supremo la ragione e la misura di tutte le cose e non tolleriamo che lo si unili a strumento di stati di chiese di sette fosse pure allo scopo di farlo un giorno più ricco e felice siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni ma coincide con il nostro mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi mi sembra un'ottima conclusione veramente così a sorpresa molto credevole che la cantessa di ascoltare queste parole io volevo ringraziare prima di tutto gli intervenuti e poi chi ha avuto la pazienza e la gentilesse di ascoltarci siamo ben felici e gratificati i complimenti che ci state facendo in diretta seguiteci faremo altre ottime iniziative nel frattempo una buona serata a tutti grazie arrivederci arrivederci presto